Aspettate, ebbene si ho fatto anche il quinto Porca puttana ho fatto anche il quinto Quindi ci manca solo il dottor Fetus Il boss finale Allora, incominciamo Non l'ho ancora visto il video Quindi lo vedo qua con voi per la prima volta Anch'io Aspetta forse è meglio, ok adesso Wow Wow Ah merda, odio questi livelli A quante cose devo stare attento È impossibile ormai passare Wow, wow, ok Piano, con calma Sì, calma sta minchia Ok No, no Sì Ok Wow, 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 piano Che quello spara come tutto Che cazzo faccio adesso qua No, fermati, che devo fare qua No, ma dai, ma cos'è Ma cosa faccio lì, è impossibile Cosa faccio lì Che carina qua Quello nonno sonoro Sembra tipo L'apocalisse La, la, la La, la, la Una cosa del genere So che la faccio in modo tristissimo Però L'idea è quella Ora devo capire come superare sto pezzo Ah, forse ho capito, ho capito, ho capito Dai, ma non mi può sparare anche lì Però, cioè Aha Ve vedi che L'avevo capito alla fine Merda No, no, no Non è come Demon's Souls O Dark Souls Che ve, ve vedi il nemico Dici, ah ok Qui potrei usare Una tattica Del, del Del tipo Che mi paro con lo scudo No Non, non puoi qua farlo Perché o perdi E rifai O basta Quindi Allora E muore così a caso Lì Lì In quella Punta di Rotella Muore Non posso andare avanti Devo andare avanti Lento È impossibile Questo co Io non so come si faccia Ragazzi C'è un motivo Per cui non l'ho mai finito Questo Questo gioco E il motivo Si chiama Boss Finale Questo Non sono ancora riuscito A capire come Minchia si faccia Ho visto I Monka S In chat Giustamente Il Boss Finale È un dito Lì dove non batte il sole Ma Cioè Seriamente Io Ecco Ok Il massimo che sono riuscito a fare È arrivare Più o meno Qua Poi da qua in poi Ok Non sono mai Arrivato qua Mio Dio Non sono mai Arrivato qua Ok Che devo fare Che devo fare C'è un tasto Là in cima Oio C'è un tasto Ah No Non ci credo Non ci credo Prerecorded Dance game Cosa C'è adesso Basta Ti prego Ok Va bene Scappano No Non è finito No ragazzi No E ora però Il casino Mi sa che devo finirlo Perché se no Mi sa che me lo rifà fare Cosa devo fare Ah non mi fa ricominciare E ora E ora che devo fare Devo andare su No su muoio What the fuck Eh ho capito Ah yeah Va bene No ragazzi Io No E Il brutto è che Devo farlo Adesso ragazzi Perché se no Dovrò anche Rifarmi il boss finale Non è impossibile Però dai Perché se usassi Quello di Ok Ok Cosa cazzo è Sta roba Io non vedo Cosa sto facendo Scusate ragazzi Se non guardo La chat Ma Non è successo Non è successo Non è successo Ok No Ora E questo è veramente difficile No basta Ma basta ma è lunghissimo No Ok No dai non puoi fare i saltini Tipo questo qua Vedete che non lo sbaglio più Ma si vabbè io ragazzi però è No secondo me è buggato Cioè è buggato Non può E adesso ce la fa Certo più vado di fretta a caso Meglio va Si ma questo è tipo impossibile Certo Non lo so se è finito Non lo so Se non è finito Pre-recorded Se non è finito impazzisco Strappo un gatto Lo strappo Fregatene basta Sì Grazie ragazzi Grazie per i pogchamp Frega niente Grazie per i pogchamp Grazie per i applausi Grazie per i clap Frega niente Grazie a tutti Va bene Sì ok E adesso ci E ora dobbiamo giocare a Cioè non adesso Adesso intendo in futuro Dobbiamo giocare a Vendi Snaigle Seguito Minchione02 Kenzi Grazie per i follow Scusate se abbiamo perso Rip Brownie Ma chi se ne frega Amec Oamek Grazie per i follow Guardali Guardali come sono casati Frega niente Io voglio sapere Cosa è il mondo dopo C'è un mondo dopo Che sono curioso Di sapere Cotton Unley E dobbiamo usare lei Sapevate voi sta cosa Run Rabbit Run Oddio una citazione A Eminem Ah c'è anche Il Dark World Però qua non ci sono Bende Beh per essere Il primo Il primo tentativo Era anche andata meglio Di quanto pensassi Era anche andata meglio Di quanto pensassi Oh però Beh non è male Ok vabbè Ora basta ovviamente Perché Puoi venire un po' le palle Oh mio dio però Non me lo aspettavo E qua Scusate Ora c'è anche La versione oscura Del mondo finale C'è È follia però C'è la versione oscura Del mondo finale Ma stiamo scherzando What What Ok Mica ragazzi Sono E qui che cazzo devo fare Sono riuscito a finire Super Super Meat Boy Io non ho parole Eh Voglio un secondo guardarlo Questo qua Ora cambio eh Volevo un secondo guardarlo Ah Ho capito Ho capito Ok Ed ecco lì la chiave Ora dobbiamo farcelo al contrario Mi sa A meno che Ah bastardi Oh Si minchia Si poteva passare lì Per il buco Ok Interessante Grazie a tutti Grazie a tutti